In realtà le macchine normali no, non ci arrivano, no perché dopo vedrete c'è di tutto, però mi calco la testa E pur il precedente, due ragazze sono andate qua, hanno fatto retromarcia e sono entrate con la macchina Abbiamo portato fuori Ah si, avete fatto anche il salvataggio in diretta, madonna che eroi Questo è un vecchio mulino C'era proprio il fiume, passava, ce l'ha raccolta nell'acqua, nelle pade Questo gatto non si fa, no, non si sta afficcinando, quindi non lo possiamo chiudere Qui sulla destra c'è proprio una vasca, guardate Bello Ok, siccome l'ha stato tranquilla, direi di fare un'altra opera Un'altra opera? Ah, ragazze Ah, ragazze Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.